Giornata negativa per i listini, tornati a temere in vista del vertice di metà dicembre, la frenata anticipata al programma di stimoli economici da parte della Fed americana. Nel vecchio continente sembra prevalere la prudenza, in attesa che la BCE si riunisca questo giovedì. Milano è tra le peggiori, con il Fuzzi Mib che cede quasi due punti percentuali. La maglia nera aspetta però a Parigi, che crolla del 2,45%, perdite accentuate anche a Francoforte, meno 1,9%, mentre Madrid lascia sul campo l'1,44%. A Piazza Affari tiene il passo solo Autogrill, le peggiori sono CNH Industria, le Buzzi Unicem, in calo anche Finmeccanica che proprio questo martedì ha riaperto un impianto produttivo vicino l'Aquila. Spread BTP Bunda 237 punti base con il rendimento del decennale al 4,1%.